Mi chiamo Audrey, sono tricologa, artista dei capelli e scrittrice. Si è la prima volta nel mio canale, ti auguro il benvenuto o la benvenuta. Sono tricologa e chi non sa che cosa fa la figura della tricologa è colui che è specializzato nel coio capelluto e nelle varie perdite di capelli. In questo canale mi concentro a dare delle informazioni scientifiche sulla salute in generale, sulla forma fisica e sulla nutrizione perché come detto, essendo tricologa, sono specializzata nel coio capelluto e nei capelli, nelle varie perdite di capelli. Questo significa che queste tre cose sono collegate con questi organi e ne devo capirne di più per poterci aiutare. Però in questo canale non intendo sostituire una consulenza professionale medica, non intendo sostituire una diagnosi, nemmeno un trattamento sulla salute, niente di questo. Però posso anche a distanza essere per te che stai ascoltando questo video o tramite tra te e tuo medico. perché parlando del capello non è solo quella cosa che devi ungere, non è quell'oggetto che devi utilizzare quando devi uscire, non è quell'organo che ti serve quando devi andare negli eventi, no, è qualcosa molto di più. Però quell'organo che magari ti crea frustrazione, magari quell'organo che ti dà fastidio, che ti fa vergognare, si comincia a capirlo partendo dall'interno, così riesci a capire già la tua propria fisiologia, riesci a capire perché si sta comportando così, ma per capirlo dobbiamo avere delle informazioni. Senza informazione non possiamo fare niente. Oggi vorrei parlare non della tricodinia, perché già nella tricodinia ne ho parlato nei vari altri video. Che cos'è la tricodinia? La tricodinia è una sorta di dolore sul cuoio capelluto quando viene applicata una pressione, però la tricodinia può avere vari fattori esterni ed esterni, non è di ciò che parlerò oggi. Oggi mi concentrerò di parlare dell'aspetto scientifico, di che cosa crea la tensione, perché molte persone quando fanno le tricine, che io consiglio d'inverno, quando le persone fanno le acconciature africane, ma qualsiasi acconciatura, spesso si lamentano di avere il dolore. Molte persone possono interpretarlo in modo diverso. Chi lo può interpretare come fastidio, un altro lo può interpretare come dolore, un altro come una semplice tensione. Ok, partiamo da questo fatto. Sulla nostra pelle abbiamo il ricettore e abbiamo le cellule di Merkel, giusto? Nelle nostre, il nostro ricettore è vicino alle nostre cellule. Abbiamo all'interno, nella nostra pelle, abbiamo lo strato chiamato strato basale. Lo strato basale, te lo spiego così per non confonderti, lo strato basale è lo strato dove si fanno tutte le separazioni. Prima che arriva allo strato corneo, lo strato corneo è questo. Ok? E qua all'interno di questa pelle, magari te lo dovrei fare vedere con questo, magari è più facile. Ok, facciamo così. Ok. Questa è la tua pelle, giusto? E' quella che tu vedi. All'interno di questa pelle ci sono dei strati. Lo strato vicino alla pelle si chiama strato basale. In questo strato siamo capaci, quello strato è capace di sentire, è capace di ricevere, è capace di rilevare, ecco l'espressione che cercavo, è capace di rilevare le più minuscole vibrazioni e tensioni. perché? Perché quando la cellula viene allungata, il soggio entra nella cellula dal fluido estracellulare e questo, grazie a un picco elettrico chiamato potenziale d'azione. e questo potenziale d'azione è capace di segnalare le tensioni, le vibrazioni dal punto in cui si esercita la tensione al cervello e questo lo fa in una velocità, in un clic. Una volta rilevato e segnalato questa tensione al cervello, poiché la tensione continua a essere esercitata, questo picco elettrico, questo potenziale d'azione manda l'informazione al cervello per fare capire al cervello che cosa lo sta toccando. Perciò spesso capita quando faccio delle trecine, io sono dietro alla cliente, significa che la cliente non mi vede e non vede ciò che sto facendo, però è capace di pensare che è doloroso, è capace di pensare che la trecina è grossa, è capace di pensare che la trecina magari è minuscola, ma questo, sono tanti di questi messaggi che passano nella sua testa per tranquillizzarla perché, sai, è un insieme di tante energie che le può percepire se hai una certa, diciamo, preparazione di tranquillità. Ecco, cosa faccio? Faccio la foto del lavoro che sto facendo dietro in modo da mettere l'immagine su ciò che il cervello gli sta mandando, ok? Perciò quando si fa la trecina, i dredici, spesso, molte delle volte, dobbiamo capire se lo interpreta come dolore, se lo interpreta come fastidio, da dove siamo partiti, da come è lo stato di salute del cuoio capelluto, perché quello che ti sto spiegando è il fatto scientifico, è un fatto elettrico, è un fatto biologico, però, sì già, la biologia, lo stato naturale del cuoio capelluto è danneggiato, significa che la pelle, noi sappiamo che la pelle ha varie proprietà, ha le proprietà sensoriali, ha le proprietà immunitarie, ha le proprietà termoregolatori, sulla nostra pelle abbiamo il sistema tattile e il sistema tattile è un tocco emotivo e questo tocco emotivo si chiama fibre citatili. Le fibre citatili le abbiamo sia nei capelli, sia nel cuoio capelluto e sono molto sensibili, sono molto sensibili al tocco leggero. Cosa succede? Come spiegato prima, il segnale viaggia, viaggia tramite quel picco elettrico molto velocemente in un clic, però arriva al cervello sino a quando continui a esercitare la tensione, la pressione in quel posto, questo picco elettrico che si chiama potenziale d'azione manda il messaggio al cervello. Ora abbiamo nella nostra pelle abbiamo il sistema tattile che si chiama fibre citatili, ok? Che si trovano nel cervello, che si trovano sulla pelle, sul cuoio capelluto o nei capelli. Quando poi questo messaggio viene trasmesso al cervello, porta con sé l'emozione, arriva in una parte del cervello alla sua volta e è associata all'emozione ed è un sistema che si chiama limbico. Abbiamo nella struttura nel nostro cervello che si chiama gencefalo, ne parlerò nel video in cui parlerò della neuromelanina, e questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che la tua pelle, il tuo cuoio capelluto è così sensibile che il messaggio gli permette di capire già che è viva la pelle, chi la sta tocando e come reagire. E di capire anche che questa pelle, come tricologa che chiamo cuoio capelluto, ha un dialogo molto diretto con il cervello. Sì, sono due organi che dialogano insieme. Abbiamo sotto questa pelle, abbiamo milioni di ricettori, abbiamo tanti geni, perciò si chiama epidermidi, perché sopra al derma. Abbiamo l'epigenesi che è sopra i geni, significa che c'è qualcosa, c'è un ambiente, c'è una fattoria che potrebbe giocarci nel bene e nel male, che sono i nostri pensieri, perché sono quei pensieri che sono l'ambiente e il cervello è la fattoria. lo dico perché spesso questi argomenti la gente non ne parla, però c'è la scienza dietro al capello che non basta comprare la nuova maschera, non basta andare dal parrucchiere, è più importante, è importante capire la tua fisiologia. La tua fisiologia perché non la può bere in un bicchiere, non la può bere in un milkshake, non può ristabilire la fisiologia con una maschera di dieci minuti, è camuffare, però camuffare non è risolvere. Perciò è importante una consultazione tricolodica perché ti permette di riavvicinarti a te e di non separare il capello dal resto del corpo.